Attenzione perché adesso ci deve essere la risposta della Ciacina alla Cabaeva con le clavette, ma non sarà facile. Buono questo elemento di possibilità, anche questo è un elemento nuovo che è uno 0,60, quindi siamo già nell'effe come valore delle difficoltà. Questo è un E, un equilibrio E, il ripartito ha fatto giri delle clavette e circonduzione, proprio per il discorso che facevamo prima, che sugli equilibri devono fare un certo numero di movimenti. Buono questo B. Ottimo, è equilibrio C più scambata B, con un'emozione da 0,50. Questo è un E di equilibrio con il bucchio e questo è un B di suplesse perché facciamo una promenade con un grande cavo laterale, senza aiuto. Senza aiuto significa che con la mano non si tiene la gamba. Sta andando molto bene la Ciacina, 19 anni. Ha avuto un'incertezza, per l'altro molto bello però questo elemento, questa combinazione. 1,67 m, 45 kg, prima competizione nel 1994. In realtà ha avvicinato la dinastica ritmica dall'87. Le suplesse sono le due vele. Adesso con il tutto.